Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento una ottima Mercedes-Benz C250 CDI 4MATIC automatica immatricolata nell'anno 2011 in versione berlina Elegance. È appartenuta ad un unico proprietario, non ha mai subito incidenti, ha percorso 177.000 km originali, tutti tagliandati presso rete ufficiale Mercedes-Benz. Si presenta in nero metallizzato con interni in pelle nera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, naturalmente trazione integrale 4MATIC, gestione automatica, cambio automatico sequenziale, motore 2.2 biturbo da 204 CV, in tecnologia Euro 5 e 4 cilindri. Vi mostro le condizioni interne che sono realmente ottime, anche i sedili non presentano evidenti segni di usura. Volante 3 razze sportivo multifunzione con cruise control e limitatore di velocità, ecco i 177.000 km percorsi. Abbiamo sistema di navigazione command, eccolo qua, e interfaccia bluetooth, radio cdmp3, climatizzatore automatico bizona, ecco il nostro cambio automatico, inserti in legno, specchi ripiegabili elettricamente, 4 alzacristalli elettrici. Vi mostro il sedile posteriore, anch'esso in perfetto stato. Questa vettura è disponibile in pronta consegna, viene venduta con 12 mesi di garanzia legale di conformità. Vi aspetto Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.